Musica Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale Io sono Weber the Gamer e oggi siamo tornati su Aberration in compagnia della nostra ginetta per testare una mod Ovviamente, ovviamente si tratta di una mod a tema Halloween La mod in questione si chiama Randy's Halloween Mod Vi lascio ovviamente il link in descrizione e direi di metterci subito all'opera Perché io non vedo l'ora di usarla, sono incredibilmente curiosa Una volta installata la mod, per poter utilizzare le sue fantasticherie è necessario sbloccare due angri In realtà solo uno, perché questo da quello che ho capito è semplicemente decorativo Invece questo è l'altare vero e proprio che ci occorrerà per craftare tutte le cosine Noi ovviamente ci siamo già craftati entrambi Vorrei piazzare la base per l'altare, però è veramente gigantesca Perché sinceramente non è che mi piaccia tanto piazzata acqua, cioè mi sembra un po' esageratamente grande Ah, questa miseria Ogni volta che mi avvicino gli spaventapasseri arriva sta voce dall'alto Nonostante sia una voce infernale che ride e mi fa venire gli infarti Va bene Dicevamo, questo è l'altare sporco di sangue Che per carità è anche carino Però sapete che c'è? No Poi magari gli troviamo un posto al di fuori del nostro cortile Ma per ora no, perché è veramente troppo grande Direi che ci possiamo piazzare semplicemente quest'altare Che sinceramente penso faccia più figura, ecco Allora cerchiamo di piazzarlo tipo qua in mezzo In modo da non coprire troppo i funghetti dietro dell'altra mod Eccoli, così Ci sono i funghetti Sì, perfetto La precisione, quanto mi piace, quanto mi piace Ok, è molto inquietante e molto bello Beh, giustamente il coltellaccio per i sacrifici umani Un bel ragnetto con il teschio molto amichevole e invitante Un po' di libri e le candele Ok, ok, è molto carino, molto carino di per sé come altare Vediamo adesso cosa ci possiamo craftare Vabbè, mi sembra Ci sono tante cartelle Allora, decorazioni Allora, abbiamo un po' di decorazioni per la nostra casetta Che sicuramente utilizzeremo Ah, abbiamo i costumi da dinosauro scheletro Oh, che bellino Ma io non lo sapevo No, perché noi alla fine dell'ultimo episodio Per poter avere il carno scheletro e anche il raptor Dove l'ho messo il raptor? È qua dietro È qua Il raptor scheletro Alla fine ho usato i comandi per ottenere le skin Perché le volevo troppo Ma più che altro perché mi servivano per fare il video della costruzione della casetta Alla fine Peraltro, scusate, vorrei far notare che da questo lato si vede la testa della zucca là in altro Che dello spaventapasseri Della testa dello spaventapasseri là dentro E non so se l'avete notato ma da questo lato nella finestra là in altro ho voluto mettere il palloncino rosso di it Perché in realtà mi sa che sta compenetrando male con le finestre Però vabbè, non importa Secondo me è carino e inquietante al punto giusto e ci sta Ad ogni modo, torniamo noi Dicevamo abbiamo i costumi, ok I gargoyle Eeeh, che bellini No, vabbè Ma questi ci stanno benissimo se li piazzo là sopra Un po' di tombe di vario genere, tipo e dimensioni Ok, carino Oh, che carine le decorazioni Halloween No, vabbè, ma la bellezza E per fortuna serve veramente poca roba per poterci craftare tutte queste cosine adorabili, adorabili Ah, qui ci sono un po' di componenti per potersi costruire una casa proprio in stile Halloween C'è proprio di roccata, guarda che belline Eeeh, magari poi ci costruiamo qualcosa anche con questo, ma perché no? Ma ti dirò quasi quasi, magari Non oggi, non oggi, però cosa? È un terremoto o qualcuno ci attacca? No, è il classico terremoto che deve rompere le scatole Ottimo Abbiamo un pochino di maschere Halloweeniane Si vede pochino, perché sono tutte coperte dalle scritte Però vabbè, come vedete sono di vario tipo Oh, che belline! Eeeh Sì, mi piacciono anche queste Le dovremmo testare tipo tutte Ragazzi, preparatevi, sarà un video di un'ora e mezza Voglio testare ogni cosa Abbiamo dei semi Ah, che qui dice che basta spargerli in giro e ci nascono piante di zucca Perfetto, carinissimo Un po' di zucchine decorate, belle Bellissime Il terremoto ci sta allontanando sempre di più Dall'altare, ok, ora ci stiamo avvicinando Perfetto Altre decorazioni varie Oh, che carini Perfetto, ora so come arredare casa No, vabbè, ma stai scherzando Mi viene un infarto se piazzo questo E poi qua fuori cosa abbiamo? Uh, un cappello da strega Perfetto Il calderone della strega Un boombox skeleton, ok E un altro cappello da strega Ok, vediamo di iniziare a riempire l'altare Con un po' di materiali vari Così vediamo tutto quello che ci possiamo craftare Allora, un po' di roba ce l'ho già qui Mi sa che mi manca pelle Ecco, visto che la pelle serve per un po' di cose Ok, allora, io ci ho buttato dentro un po' di roba Anche un uovo di megalosauro Che anche no, magari non penso serva Allora, prima di tutto Partiamo dalle basi Voglio queste cose qui I cappelli da strega Il boombox skeleton Va bene E il calderone Calderone, no, non mi sfuggire Vieni qua Allora, tanto per cominciare Voglio provare i cappelli Oh, Ginetta come sei streghetta Oh, Ginetta come sei streghetta Ma sei bellissima Oddio, forse dovremmo Ci vorrebbe un tutino un po' diverso Ma non ce l'abbiamo Un tutino più adatto all'occasione Perché ti sta veramente bene Questo cappello E quest'altro E quest'altro Spuntano i capelli Dalla stoffa Però va bene Ok Facciamo che ci rimettiamo L'altro tesoro Ecco, ecco Così sei molto più seria Sei molto più faida Perfetto Ora, visto che siamo Delle meravigliose Fantastiche streghe Direi che è il caso Di piazzare il calderone Il calderone Penso lo piazzeremo A chi? Proprio a fianco al nostro Altare Perfetto E anche da qui Se non ho capito male Ci possiamo craftare Delle cose Perfetto Perfetto Ma Questo dopo Dopo il calderone Ora finiamo un attimo Con l'altare Allora Decorazioni Abbiamo alberi Abbiamo un teschio Ok Il teschio lo voglio Un coltello insanguinato Lo voglio Una ragnatela Bella Un'altra ragnatela Un'altra ragnatela E un'altra ragnatela Le proviamo tutte le ragnatele Il paloncino rosso Ce l'abbiamo già Quindi non ci serve Ci sono un po' di scheletri Ok E di vari parti Di scheletro Allora lo scheletro in varie posizioni Scheletro in piedi O scheletro sdraiato Questo lo andiamo a mettere sul letto Subito Subito Oddio C'è anche C'è altra roba Che però mi serve Oddio C'è tipo una testa mozzata Mi serve della carne Puh Carne cruda Ok Carne anche per questo Per fare Jason zombie Ok Ed è il carbone Per fare Il fantasma arrabbiato Ok Aspetta Fammi andare a prendere Carnina E carbone Dovremmo averne a pacchi Appunto Ok ok Allora la testa Jason Il fantasma Assolutamente Le altre cose Vabbè Sì siamo fatti un po' di cosine Qua Magari un alberello Uh quest'albero che urla Ha la faccia quest'albero Voglio l'albero con la faccia Ah come vedete Richiedono veramente Pochissime risorse E tutte facilmente reperibili Quindi veramente Ci si può sbizzarrire A qualsiasi A qualsiasi livello Si sia nel gioco Con questa mod Ok allora Vediamo di testare Il nostro Boombox skeleton Prima di tutto Che metteremo Qui vicino A queste tombe E cosa succede? Cosa? Possiamo interagire In qualche modo? Start music Cioè funziona veramente Da jukebox È bellissimo Va bene No però scusa Stoppiamolo Che non so se Queste canzoni Sono coperte da copyright Va meglio non farle sentire Vabbè però è carino È carino È carino È molto carino Mi piace Allora vediamo L'albero che urla Quanto è grande È grandicello È grandicello L'albero Non mi ci sta Qua nella casetta Tipo qui così No Ma fa vedere Tipo all'ingresso Fa vedere Se all'ingresso Riusciamo a piazzarlo In modo che sia Abbastanza Terrifico Cosa? Compaiono strane cose Quando piazziamo Questi oggetti Oddio Guarda che strano Allora Dicevamo Aspetta La voglio mettere qua Fianco alla casa Sì però non ci vedo niente Con tutta sta roba davanti Così Che bellino No Che bellino Guarda che c'è la faccia E c'è anche tutte le cosine intorno Tipo nebbioline No vabbè Bellissimo Bellissimo Ok allora Tutte le altre decorazioni Penso che le vorrò mettere dentro casa Abbiate pazienza Le voglio mettere dentro casa Allora portiamoci uno dei nostri Bulbdog luminescenti Che così Non dobbiamo accendere torce e torcine Allora Tipo qua Che è una specie di soggiorno Questo Vediamo di togliere la zucca Abbi pazienza zucca Ma ho qualcosa di meglio da mettere Qui tipo La testa di zombie animata Me la fai poggiare sul tavolo Vero? Sì Ok Via i resti della zucca Vediamo tipo Puuu Che schifo È proprio una testa di zombie Che si muove ancora Sì sul tavolo qui è perfetta Sul tavolo qui è perfetta E mi serve a questo punto Jason zombie Jason zombie Di chi non vorrebbe pranzare A questa tavola Oh non riesco a metterlo per terra Però Tipo qua così Ok Ciao Piacere Salve Benvenuti Che accoglienza qui Ma vediamo di piazzarci Anche una bella ragnatela Aspetta C'ho paura di avvicinarmi Troppo a Jason Sinceramente Tipo una ragnatela Qui E riesco a piazzarla Qua in alto Tipo così Perfetto C'è la testa che fa Un casino della madonna Peraltro Sta continuando Si può zittire Tipo No la posso solo raccogliere Vabbè dopo la toglierò Se non mi verranno gli infatti Quando mi dimentico di averla Oddio ma Jason si muove No scusa Non me ne ero accorto Tesoro Stai bene Tu ti muovi lì dentro Possiamo interagire con te No possiamo solo raccoglierlo No guarda ti lascio lì Preferisco non portarti con me Ok vediamo di andare a decorare Anche il piano di sopra Dove al momento Ci sono i nostri scarabè Oh guarda un altro tavolo Guarda cosa ci mettiamo qui Molta bellissima E sul letto Aspetta che c'era Lo scheletro sdraiato Giusto? Lo posso piazzare? Dov'è lo scheletro? No Non me lo fa piazzare sul letto Eh vabbè ma dai Va bene ok Lo metteremo tipo qua per terra Tipo scena del crimine Mezzo compenetrato col pavimento Va bene dai ok Non c'è problema Mi vai bene lo stesso Poi tipo le mani Ah le mani stanno tipo per aria Ah tipo le posso mettere Aspetta Ma le posso mettere che compenetrano col muro? Tipo così Oh carina Che carina No aspetta 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 Cerchiamo di metterla vicino alla torcia Come se stesse tenendo la torcia Riuscirò a piazzarla così Ma ci credo poco sinceramente Tipo così No Così Sì dai che forse ce la facciamo Ok Dai più o meno Più o meno Sembra che sta tenendo la torcia No Dai è molto carina Uh abbiamo anche l'arma del delitto Aspetta Aspetta che qua giochiamo Giochiamo a Cluedo con Ark Perfetto mi piace C'è l'arma del delitto L'arma del delitto che è 30 volte più grande Della vittima però non importa E allora a sto punto qui dentro ci mettiamo anche il fantasma C'è il fantasma della nostra vittima no? Eh si muove tutto Aspetta Ti piazziamo Tipo qui Ok Eh guarda guarda il fantasma della nostra vittima Ciao sei arrabbiato Eh guarda com'è arrabbiato Guarda com'è arrabbiato Ma Aspetta Ho cliccato roba Aspetta Non me l'aspettavo che mi venisse incontro Ciao ciao Sì va bene No 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 Chiudiamo la porta Chiudiamo la porta Lasciamolo lì Lasciamolo lì Allora direi di mettere un paio di ragnatele Ragnatele Sì vabbè Un paio di ragnatele anche qua Tipo una qua nell'angolino Così Perfetto Mi piace tantissimo Guarda con anche il ragno Che bello Il ragno però resta libero Non è che mi segui Me lo porto Me lo trovo in giro Allora Vediamo di metterne anche una Da questo lato Eh ma questa è gigantesca Ragazzi E vabbè Ma che cavolo Dove la piazzo La piazziamo qua Qua No aspetta Aspetta Se io la piazzo tipo qua Poi mi fa salire Posso passare Poi Sì possiamo passare Ok perfetto Allora la voglio qua Cosa c'hai Ginetta? Sete Fame Sete Dai guarda che figata Cioè tu entri E c'hai la ragnatele La giga Guarda questo ragno Oddio Ok non è adatto Per chi soffre di racnofobia Ma perché non abbiamo messo Una porta qua C'è sta testa Che sta facendo Un casino incredibile Stai zitta Basta Possiamo prendere A schiaffi La testa zombie Con una mano scheletrica Tipo così No Non si può interagire Poi peccato Speravo di poterlo Prendere a schiaffi Allora La mano scheletrica Che esce da sottoterra Diciamo Io direi di metterla Qui Così No no Giratela All'altro modo Dai guarda che bellina Con la mano scheletrica Che esce Sarebbe più carina Una mano zombie Però che lo scheletro Non mi dispiace Ah c'è anche lo scheletro Che sta in piedi È vero Aspetta Questo lo mettiamo Nell'area da lavoro Mi sembra Una decorazione D'area da lavoro Magari togliamo Lo spaventapasseri E ci mettiamo Lì lo scheletro Eh Guarda che carino Vicino al fuoco È stato troppo vicino Al falò Si è cotto un pochino Non è rimasto niente Solo le ossa Uh aspetta Che c'è un'altra ragnatela Qua aspetta Questa la mettiamo in cucina La mettiamo in cucina Così O qua No qua qua Mi piace di più qua Aspetta Così No vabbè Che bellina Voglio riempire La casa di ragnatele Voglio riempire La casa di ste ragnatele Sono bellissime Allora Qui abbiamo i gargoil È vero Ma sono tipo Componibili Si Aggiungi una testa E le ali Ok Ok Ce lo possiamo comporre Mi piace Cioè allora Tipo questo è il corpo Perfetto Come testa C'è questa Uh ma ci sono anche questi Di corpicini Allora aspetta Ce li facciamo Eh Allora scusa Mi faccio un po' di tutto Ascolta E poi assembliamo Ok ok I gargoil sono pronti E io però vorrei Piazzarli tipo Sul tetto della casa Solo che è un casino Arrivare lassù Dove mi serve Il mio paraceraterium Tipo da qui Ok Perfetto Perfetto Allora ne voglio Uno lì di gargoil Tipo questo Aspetta Fammi Ups Ok Riusciamo a metterlo Più o meno Tipo No non mi stai Dritto qua sopra E dai Ma perché Uffa Lo volevo dritto io Ok tipo Appena finisce il terremoto Forse riusciamo a piazzarlo Qui Vabbè Speriamo che finisca il terremoto Cribbio cacchio Finito terremoto Ok perfetto Dai tipo Qua proprio nell'angolo Ci sta benissimo Ok Ah però si vede poco Gli dovremmo mettere una torcina Vicino Allora vediamo una faccia Una faccia Questa Così Che bellissimo E di qua gli piazziamo Tipo queste ali Sì Oh bellino Sì ci serve una torcia Per illuminarlo Aspetta Guarda che bellino che è Ok aspetta che ce ne costruiamo Uno per terra Che se no Non si vede molto bene Scusa da qua giù si vede Sì Guarda che figo Toglie la testa bestia Scusa Guarda che figo che è Si vede la sagoma Perfetto Sì 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 Ne voglio mettere altri sul tetto Ottimo ottimo Aspetta ce ne mettiamo uno qua giù Giusto perché Così ce lo osserviamo per bene Tipo sull'altare me lo farà mettere No peccato Allora guarda ce lo mettiamo qua A fianco al calderone Guldo ti puoi spostare Vabbè Ce la fai tu ora uscire da qui Sì sì Questa testa che mi sembra molto molto brutta E queste ali Queste Guarda che bellino È inquietante da morire Che brutto È uno strano miscuglio tra uomo e bestia Cioè orrendo Ok va bene Perfetto Gargoyle super approvati Mi tappezzerò tutto il tetto Tutto il tetto Con queste costruzioni Oh qui abbiamo un po' di tombe carine Da costruire Oddio è brutto dire Tombe carine È un po' uno sinoro Non penso si possa dire Tombe carine Però non importa Un po' di queste tombe Molto halloweeniane Che mi piacciono Ok vediamo di testare un po' anche queste Eh però siete gigantesche Ok aspetta Qua c'è spazio per una Ok molto Molto cimitero Fanno molto più cimitero Delle altre Questa che cosa è gigantesca No scusa ma Ah no è piccolo Solo che mi compaiono Tutte cose intorno Ok aspetta Però non riesco a posizionarla È un casino La metteremo tipo Qui Ok No molto bellina Uh tipo Questa sembra tipo Celtica Bella Guarda Sì Che bellina Di quelle celtiche Ok Ora sembra molto più Un cimitero Questo cortile Va bene Anche questa È abbastanza Carina Con le scritte E tutto il muschio Bellina 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 Ma La nebbia È per via della mod O è aberration Scusate Va bene Non importa Mi piace molto Comunque Cioè è molto È molto inquietante Mi piace Mi piace Tutte queste tombe Con quest'atmosfera Alluminiana Questa la proviamo a piazzare Qua dietro Ok Oh molto bellina Peccato Che viene un po' nascosta Dopo le posiziono meglio Dopo le sposto E le posiziono un pochino meglio Adesso le volevo giusto vedere E poi ci sono queste Che però sono Mi sa gigantesche Non riesco a capirlo Perché mi compaiono Sempre mille cose Ascolta Fammi la piazzare un attimo qua Tipo Ok Che figa E ci sta benissimo Qua al centro Ok Decisamente Questo cortile Adesso è diventato Tipo Un cimitero Con l'altare Per i riti satanici No vabbè Perfetto Perfetto Per Halloween Qui abbiamo anche Una tomba Con la terra Però questa Aspetta La posiziono fuori Perché inizia ad essere Un po' troppo affollato Mamma mia La nebbia Mamma mia Qua che c'è un sacco Di spazio Qua dietro Oh E la tomba Di un cavaliere Che figa E di qua Abbiamo proprio Una tomba Scavata Eh sì No vabbè Guarda la nebbia Che si Che si forma Intorno alle costruzioni No è perfetto È bellissimo Ah possiamo Accendere la nebbia O spegnerla No Accesa tutta la vita Riempiti di nebbia Ma con tutti gli oggetti Possiamo farlo Sì Figo Con l'albero No con l'albero No però con gli oggetti Del cimitero Quindi con le varie critte Tombe eccetera Possiamo abilitare O disabilitare La nebbia No vabbè No vabbè Fantastico Mod della vita Adoro Adoro Sì Peraltro qui dentro Abbiamo messo talmente Tanti di questi oggetti Che ormai È solo nebbia Non si vede praticamente Più il terreno Ok va bene Ah le luci di Halloween Vediamo un pochino Voglio un po' di tutto Allora voglio gli scheletri Le zucche E i fantasmi Tutto Voglio tutto E ci sono le stesse decorazioni Ma in versione small In versione più piccola Ridotta A quanto pare Aspetta Ne proviamo una Così vediamo il confronto Tra quella normale E quella small Allora tipo Questa è la decorazione normale Oh Oh che bellina Petta No no voglio C'ho troppa roba qua in mezzo Dannazione Volevo tipo appenderla lì Ah no è troppo Troppo più grande Ok proviamo con la piccola Vediamo la small Ah la small forse ci sta giusta giusta Ok Posso andare un po' indietro No perché c'ho sta roba In mezzo alle scatole Ok tipo così Così Sì non si capisce molto Che sono fantasmi Oddio no vabbè Dai da lontano un pochino Sì È stupenda È stupenda Allora aspetta Scusa quella grande L'andiamo a posizionare di qua No vabbè Cioè qua che è tutto buio Adesso è stupendo Stupendo Ok vediamo di piazzarci una luce Ci mettiamo qua I teschetti direi Mi sembrano La scelta più azzeccata No vabbè È bellissimo È bellissimo Che aspetta Andiamo a piazzare le altre dentro casa No veramente Questo cortile è assurdo adesso Però è bellissimo Sto amando questa moda alla follia Allora tipo Vediamo se qua su ci stanno le zucchette Senza Compenetrare troppo con la parete dietro Perfette Perfette È bellissimo Bellissimo Mi piace tantissimo Sto impazzendo Allora è tipo questa la mettiamo qua di traverso Per così Guarda No ma come sono bellini Questi giganteschi E fanno luce anche Guarda come si illuminano Sono bellissimi Guarda il ragno col buio Che effetto Che effetto che fa No vabbè No vabbè ragazzi Questa è la casa Halloweeniana Suar Più più bella che abbiamo fatto L'unica che abbiamo mai fatto In realtà ma molto bella Comunque Invece questi pezzi di costruzione Mi sa che Ce li teniamo da parte E li useremo magari Per costruire qualcosa Più avanti Allora qua abbiamo le maschere Queste sono maschere Che possiamo utilizzare Su di noi Ma anche sulle Creaturine Oh vabbè proviamo Intanto Ok vediamo subito Di testare tutte 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 Le maschere Che ci siamo craftate